oggi con garga secca e mic 69 cima paganella e poi from top to lake e poi l'aviazione su secret per tornare ad andalo circa 1500 metri di slivello credo dopo una giornata di park ieri direi che ci sta c'è garga secca poi porta 90 kg di accessori michele non molla nonostante ci sia acqua un 25 per centi 23 per cento di salita grande puffo che arriva ultima rampa garga secca si arrende l'e-bike si arrende 22 ma attenzione il 22 c'è la cara vecchia coroncina del rampichino c'è anche michele che ci supera e se ne va andrea qua non c'è un versante brutto guarda il brenta poi il lago di garda riva del garda ecco la cosa brutta è dietro sta curva ci sono le antenne quella è una cosa brutta 5g aler sento che sta facendo reazione con con i metalli pesanti del mio vaccino kovid che figata queste sono le 5g dell'antenna hanno fatto i raggi a cantare tanto è grande ahahahahahahahahahahahah hai gargone ciotto dame distrappiamo mi ne abbiamo signore si dimmi tutto ai parco giochi però impegnativo lì perché poi si cade di giù sopra ma sopra ma io voglio passare sotto a che marcia ok quasi quasi sembra grande bello 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 è il passaggio un po più piano ma faccio con calma una pianta però sono ancora in piedi ma che bello che era quel passaggio su attenzione sbagliato un po più facile eh questi sono belli bravo davide questi sono proprio dove ma come vanno i ragazzi si fiondano bene bene come arriva mic 69 bello veramente cambio marcia alea alea marcia bicchiere eh cattivo là eh cattivo cattivo sto cercando di capire che forse questo è troppo doveva andare a sinistra però non ero più lucido andiamo a riuscire a trovare parte portace da fare anche a Paganella ci sono più pianti di risalita che alberi eravamo lì e adesso in cima hai detto Andrea oh faccio una ripresa con queste montagne guarda con il lago di Garda qui beh beh direi due pietre ne abbiamo ma Andrea grande il maestro adesso eh si è fermato stavo dicendo non so se adesso si riesce a fermarlo se ci veste ecco ok devi cadere per forza s Buon appetito! allora abbiamo fatto un pezzo di top to lake signori full black adesso secret trail 805 cospetto del brenda c'è il corso ieri era già d'arancia ammalmenato perché era un po' movita ci ha fatto davvero del male fisico un po' stai con la faccio piano non è un po' stai con la faccio piano non è un po' dunque dopo 5.000 metri di slivello di ieri sono abbastanza distrutto mamma mia beh molto bello fatemi riprendi mamma che sono un po' strano ah non ci sono i tratti quelli tecnici da fare in salita eh vabbè stai attento? si vai avanti pure stai attento a non andare sempre per la massima pendenza perché c'è un tratto che ha delle vecchie tracce che fanno un po' più giro ah no vai tu che magari te lo ricordi eh buono non lo so va bene dai dai non c'è problema belli grazie 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 bello metta un secondo pezzo più difficile quindi 90 per cento è quotato che scenderò a piedi si io qua non me la rischio bravo Andrea ti è piaciuto? bravo questo diciamo che non era proponibile ieri ma secondo me finora è più facile della giota no c'è solo quel pezzetto dove fa più attenzione opla 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 oh a 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 ragazzi a scivolato se però si fa a me piace più questo quattro guidato a livello è così a la roccia mi ha mi ha impattuto a 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 bello 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 a a di là posso andare un po aggressivo dove ha 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 si si ha 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 lo faccio così con la curvetta guarda faccio così non spresso e si passa ha 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 che figata uh scalette bom 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 mi piace a me attenzione le scale le scale le scale anche arrabbiate le scale anche arrabbiate con non 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 tutto avuto col faccio uso fritto o più permesso è attenzione laghetto signori ridente centro di molveno praticamente andiamo a fare l'utere lo struscio stiamo facendo lo struscio adesso ci facciamo l'ultima discesa 1400 metri di livello in salita a 1400 pedalati super dignitoso super dignitoso 1400 di carbon non 1400 inventati quindi sono 1400 effettivi e anche anche di più probabilmente vediamo se la clopro ci supporta ma non credo ok 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 Qualcuno ti è perso una borraccia? Cazzo! Non mi hanno so neanche accorto Cazzo! Un po' scassato eh! C'ha visto? Linea alta per lui E anche il stadio Vabbè linea bassa Eh, dai, non male Attenzione Strattoria Bello Bello, bello Diciamo che non sono mai delle cacate Sono tutti abbastanza simpatici qua a Paganella Eccoci qua Corsecchiello, fine Fine giro Gli ultimi eroi Post raduno, post giro Vai Bello Buongiorno, qui si sono3 Perchè... Perchè... Camminare Iscriviti al canale